Agrigento verso la Sagra del Mandorlo in Fiore, l'organizzazione dell'ente parco Valle dei Templi, l'intervista alla sindaco Calogero Firetto, Irene Milisenda. Quasi tutto pronto per la 72esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore che dovrebbe svolgersi dal 4 al 12 marzo e non più a febbraio come secondo tradizione, nella speranza di migliori condizioni meteorologiche. L'evento quest'anno ha rischiato in un primo momento di essere cancellato a causa del mutamento delle norme in termini di fondi provenienti dallo sbigliettamento dei beni archeologici regionali. Poi però tutto si è risolto e gli egrigentini, non solo, potranno rinnovare la partecipazione alla Sagra, che però per la prima volta nella sua storia cambia denominazione. Non più Sagra del Mandorlo in Fiore, ma semplicemente Mandorlo in Fiore, ed è una scelta dovuta al fatto che si vuole lanciare un messaggio diverso ai turisti, non soltanto una semplice Sagra, ma una manifestazione che spazierà in un profilo più ampio, dalle degustazioni dei prodotti tipici alle esibizioni dei gruppi folcolistici per le vie cittadine. Ad occuparsi quest'anno dell'organizzazione della Sagra sarà il Parco archeologico della Valle dei Templi, diretto da Giuseppe Parello, che sta completando gli ultimi adempimenti organizzativi e sarà, nelle condizioni entro fine mese, di fornire il programma completo e dettagliato. E nel frattempo il comune di Agrigento, che da sempre si è occupato dell'organizzazione e della manifestazione, resta a guardare da lontano l'operato dell'ente Parco Valle dei Templi. Il comune è in qualche modo il possidente, diciamolo virgolettato, del marchio e della storia della Sagra, ma più che il comune è la città di Agrigento, che storicamente lega il suo nome a questa bella festa di primavera anticipata. L'anno scorso, credo, sia stata data una sterzata nel segno di una innovazione sostanziale del mandorle in fiore, con tante suggestioni nuove. Quest'anno l'organizzazione è assegnata all'ente Parco, perché come voi sapete il 30% sullo sbigliettamento, la Regione ha ben pensato di non assegnarlo più ai comuni, che hanno il proprio bene culturale, ma in questo caso le ha assegnate all'ente Parco. E quindi io, tempestivamente, siccome non ci possiamo permettere di perdere una manifestazione che oramai data da 72 anni con questa nuova edizione, e per noi rappresenta un grande veicolo di promozione, se si riesce a farla nel verso giusto, anticipando la comunicazione, così come abbiamo fatto l'anno scorso, dove per la prima volta riusciamo a avere questo trend positivo e questo riscontro da parte del sistema della ricettività, gli alberghi contenti di quella formula lì. Allora io penso che quest'anno, magari innovata ulteriormente nei contenuti, l'ente Parco potrà fare una buona festa del mandorle in fiore. Ripeto, ciò che dobbiamo sempre di più far meglio è gli aspetti della comunicazione. Quest'anno non è che siamo partiti in ritardo, siamo partiti a dicembre. La comunicazione è partita a dicembre proprio perché la norma fu approvata tardi, fu approvata in via definitiva a settembre. E allora il prossimo futuro dovrà prevedere che la comunicazione non si può fare neanche a dicembre, benché la festa è a marzo, ma deve essere fatta come facciamo noi l'anno scorso in agosto. Solo così tu riesci a avere le prenotazioni sui B&B e sugli alberghi, perché non può essere la festa dell'autoconsumo, deve essere una festa che viene venduta commercialmente a chi viene ad Agrigento.